La verità è una conquista del singolo. La verità non può che suscitare, nell'intimo di colui che ascolta, se è maturo, un riscontro di certezza. L'uomo si attende dalla verità un apporto esterno, verità uomo. Invece la legge prevede verità intimo dell'uomo. Nei riguardi degli altri non dobbiamo mai agire come se la nostra sola fosse la verità, ma nei riguardi di noi stessi dobbiamo agire come se lo fosse.